Buonasera da Sarocco di Capodimonte in Mundialito, quinta edizione, ottava giornata, Real Selesao, batte FC, Jack 2, 8 a 2, migliore in campo, Cammine Numeri, consegniamo la medaglia, complimenti Cammine. Grazie. Senti, questa azione è davvero buona da parte vostra, la partita è fatta facile già nel primo tempo dopo il 3 a 0, avete difeso bene, avete attaccato bene quando c'era la possibilità di fare il golo, l'avete fatto e adesso la fase Champions League a BC. Iniziato una partita apparentemente facile, però i risultati, i primi del gol, dal modo in cui abbiamo approcciato la partita, abbiamo iniziato con grande serenità e molta calma rispetto alle ultime partite che non riusciamo ad esprimere un buon gioco, invece è successo piuttosto. Avete riscattato alla grande la sconfitta nel debito di Baku, ci voleva una prestazione così. Siamo ancora amareggiati tra la sconfitta con gli amici del Baku, però cosa possiamo, questo è calcio, ogni partita ha una storia a sé. Senti, adesso c'è lo scontro diretto con il Napoli, se perdete, addio, cioè andate in Europa League, poi ve la giocate lì, se invece vincete la fase Champions League è matematica. Non ci pensiamo al calcolo dei punti, dobbiamo solo riuscire a fare un'altra buona prestazione, poi i risultati verranno da sì. È l'ultima partita, non abbiamo altre occasioni, quindi sarà, nonostante decisiva. Sì, decisiva. Va bene, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? Alla mia fidanzata, ovviamente. Complimenti a me, alla prossima. Ciao.